Musica Sono le 18 e 34 minuti, una buona serata a voi telespettatori del Tg2000. Partiamo dal caso del giorno. Sofia, una bambina di soli 4 anni, è morta questa mattina a Brescia, uccisa dalla malaria cerebrale. La forma più grave dell'infezione trasmessa dalla zanzara anofile che in teoria in Italia non vive più dagli anni 50. La piccola non era mai stata in paesi a rischio. È il primo caso di malaria non importata e si cerca dunque di capire come si è avvenuto il contagio. Il servizio di Alessandra Camarche è a seguire il commento dell'infettivologo Roberto Ieraci. Morire di malaria in Italia a 4 anni sembra impossibile considerando che in Italia la malaria è scomparsa a partire dagli anni 50. Eppure è quello che è successo nella notte tra domenica e lunedì. Sofia, una bimba di 30, di appena 4 anni, è morta per malaria dopo un ricovero d'urgenza agli ospedali civili di Brescia. La piccola non aveva frequentato nessun paese a rischio, anzi era reduce da una vacanza al mare a Bibione insieme ai genitori. I primi sintomi del malessere accusati dalla bambina non avevano fatto presagire che si potesse trattare di malaria. Sofia era stata portata sabato pomeriggio al pronto soccorso pediatrico di Trento con una febbre molto alta. Ma quando le è stata diagnosticata la malattia è stata trasferita ad urgenza a Brescia dove è attivo un reparto di terapia intensiva pediatrica e uno dedicato alle malattie tropicali. Malgrado ciò, la bimba arrivata al nosocomio lombardo, già in condizioni disperate, non ce l'ha fatta. Ora si cerca di ripercorrere la storia clinica di Sofia. Prima dell'ultimo ricovero a Brescia, la piccola Trentina era stata ricoverata per un esordio di diabete. Il 13 agosto in Veneto, dove si trovava in villeggiatura, poi nuovamente a Trento per una faringite ed infine per la malaria, da prima a Trento poi a Brescia. La causa della malattia fatale non è stata ancora chiarita. Secondo le prime indicazioni rese note dal ministro della salute Beatrice Lorenzin, la bambina potrebbe aver contratto la malaria in ospedale a Trento, dove nell'ultimo giorno di degenza della piccola è arrivata una famiglia del Burkina Faso di ritorno dal paese di origine con due bambini con la malaria. Su questa ipotesi sono in corso accertamenti da parte del ministero. Morire di malaria in Italia è un fatto assolutamente inconcepibile. Normalmente i casi di malaria che abbiamo in Italia sono malarie da importazione, di soggetti che si sono recati in aree dove la malaria è endemica, soprattutto Africa occidentale, Africa subsahariana e alcune zone amazzoniche del Sud America. La malaria è una malattia parassitaria trasmessa dalla puntura di una zanzara, l'anofele femmina, che punge e succhia il sangue perché ha bisogno di calore per le proprie uova. Praticamente il ciclo si compone di una parte che avviene all'interno della zanzara e l'altra parte nell'uomo malato. Quindi se esiste le persone malate, la zanzara prende le forme sessuate del parassita e le trasforma all'interno del suo organismo e inietta le forme infettanti nell'uomo rapidamente. Tra l'altro i cosiddetti sporozoiti che scompaiono rapidamente nel sangue in tempi molto rapidi. Parliamo ora di vaccini obbligatori a scuola che in questi giorni stanno creando un clima sempre più acceso anche a livello istituzionale dopo lo strappo della Regione Veneto con il decreto che allunga di due anni il limite per adeguarsi al provvedimento. La Ministra Lorenzin studia le contromisure mentre la Regione Lombardia fa un passo indietro e congela l'ipotesi di una proroga per mettersi in regola. Sandra Pizzur. Vaccini, scoppia il caso Veneto e crescono le polemiche sull'obbligatorietà appena l'esclusione dalla scuola. Dopo la moratoria firmata dal Direttore Generale della Sanità del Veneto Domenico Mantuan che fa slittare all'anno scolastico 2019-2020 il termine ultimo per presentare documenti che dimostrano di avere vaccinato i propri figli o di farlo in breve tempo, il dibattito resta aperto. Tra il Governo che sta valutando di impugnare il decreto della Regione Veneto è il Kodakons che si schiera con il Presidente Luca Zaia. Le Ministre dell'Istruzione e della Salute Valeria Fedeli e Beatrice Lorenzin non ci stanno e ribadiscono di non ammettere proroghe o deroghe. Occorre, ribadiscono unanime, cautelare i bambini soprattutto dai 0 ai 6 anni, dalle epidemie attraverso un'uniformità delle coperture vaccinali nelle scuole. E se il Veneto opta per la moratoria la Lombardia fa un passo indietro congelando la delibera che prevedeva una deroga di 40 giorni e non mancano nelle altre regioni res e caos con i centri vaccinali in vari casi presi d'assalto come continua a succedere a Palermo nel centro vaccinazione della zona guadagna dove anche oggi alcuni genitori hanno attaccato i medici o come è successo ieri a Napoli. Chiara la situazione nel Lazio dove già ad agosto si era deciso per l'autocertificazione come ha spiegato il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. L'autocertificazione è infatti l'agevolazione permessa dal Ministero attraverso la quale basterà comunicare alla scuola che si è provveduto a prenotare i propri figli presso l'asle di competenza per la vaccinazione e dentro marzo fornire poi la documentazione che ne dimostra l'avvenuta vaccinazione. Torniamo a parlare di sgomberi e sicurezza. A Roma, a Piazza Venezia, una ventina di rifugiati sgomberati dal palazzo di via Curtatone sono ancora accampati all'aperto nei pressi dell'altare della patria. Intanto dal biminale parte una nuova direttiva rivolta ai prefetti, i particolari nel servizio di Augusto Cantelmi. Procede a tappe forzate lo sgombero del presidio di migranti. A Piazza Venezia si vogliono evitare nuovi incidenti ma tra i migranti la tensione resta alta. Invece loro sono buttando sulle donne con i bambini e sugli anziani. Non vado all'altra parte. Rifugiati, siamo rifugiati qui. Rimani qua, da dove andare? Non lo so ancora, non lo so. Perché ancora sta qua a polizia. Dove dormire non lo so. Dal biminale nessuna marcia indietro sugli sgomberi. Si va avanti infatti con un piano studiato nei dettagli con nuovi particolari e che non riguarda soltanto Roma. Per evitare altre occupazioni e individuare nuove soluzioni alloggiative verranno mappati infatti tutti gli edifici pubblici e privati nonché quelli confiscati e inutilizzati. Un piano per ripristinare la legalità ma senza voltare le spalle all'integrazione lo ribadisce il ministro dell'interno Minniti sempre più convinto della necessità di superare i centri di accoglienza. Integrazione e sicurezza dunque elementi fondamentali per la tenuta democratica del paese. Perché una società più integrata è una società più sicura una società più integrata è una società che è capace di più di reggere alla sfida che noi abbiamo di fronte che si chiama anche sfida del terrorismo internazionale. L'economia italiana accelera sostenuta da una crescita diffusa in tutti i settori produttivi del paese lo scrive l'Istat nella sua nota mensile. La tendenza rilevata nelle ultime settimane è confermata nel secondo trimestre. Il PIL è cresciuto dello 0,4% rafforzando la prospettiva di uno sviluppo diffuso grazie al rilancio degli investimenti. E per la Coldiretti cresce del 2,5% l'acquisto di beni alimentari un record del decennio. Voltiamo pagina polizze, libretti, conti correnti non movimentati per oltre un decennio. I cosiddetti depositi dormienti per legge passano nelle casse del tesoro. Caso tipico è quello del decesso da parte del correntista. Ma cosa succede se gli eredi non si fanno vivi con la banca? Questa è obbligata a rintracciarli? E cosa fare nel caso si avvedano di quanto accaduto? Massimiliano Niccoli lo ha chiesto a Fabio Picciolini, esperto dei diritti dei consumatori. Sentite. Sono decine di migliaia gli italiani che dopo la morte lasciano soldi sul proprio conto corrente e nessuno, eredi compresi, li reclama. Il problema è che secondo la legge passati dieci anni dal decesso quel denaro diventa patrimonio dello Stato. E siccome la somma fa il totale il risultato è che i cosiddetti conti dormienti, dal 2007 a oggi hanno fruttato alle casse pubbliche ben due miliardi di euro. Dai dati di Intesa San Paolo l'unico istituto di credito che ha reso noto il proprio elenco sono diversi conti con depositi superiori ai 10.000 euro. Una somma considerevole che ovviamente stuzzicherebbe l'appetito di chiunque. Peccato però che nessuna norma obblighi le banche a inviare comunicazioni di alcun genere agli aventi diritto. Servirebbe una comunicazione personalizzata, perché tanto la banca sa, o l'assicurazione, sa chi è il chirore di quel conto, sa chi è eventualmente l'erede. Per cui io credo che se si riparte come quando fu costituita la legge con una nuova informativa si fa tanta pubblicità, progresso su tante cose perché non sono una cosa del genere. Probabilmente ognuno di noi che pensa di avere qualcosa che non ricorda, pensa di avere qualcosa, a quel punto di vista andrà a fare un controllo più approfondito, passerà presso la propria banca e cercherà di fare qualcosa. Secondo l'inchiesta di Repubblica che ha cercato gli eredi di quei conti il problema è tutto lì, nessuno li ha cercati. E allora se qualcuno avesse dubbi meglio controllare, perché una via di fuga esiste. Seppure sono passati dieci anni dal decesso, ci sono altri dieci anni di tempo per chiedere il rimborso di quel denaro. Basta fare domanda alla CONSAP, una società controllata del tesoro che ha proprio il compito di gestire quelle somme, prelevarle dalle casse pubbliche e restituirle a chi ne ha diritto. Ed ora la storia, esemplare di un giovane imprenditore friulano, morto in luglio a causa di un tumore. Ha disposto di lasciare la sua officina ai cinque lavoratori che aveva assunto. Gli dimostreremo che grande maestro è stato, scrivono i dipendenti nella lettera di ringraziamento, faremo vivere il suo sogno. Federico Plotti. Avevano condiviso il sogno insieme. Andrea Comandi, imprenditore non ancora quarantenne, ai suoi cinque dipendenti. Aprire un'officina, farla crescere e guadagnarci, ovviamente. Da quando, nel 2011, era stato aperto il garage a Mortegliano, in provincia di Udine, è stato un crescendo. Sempre più lavoro, sempre più clienti. Poi è arrivata la malattia, una brutta bestia, un tumore che ha colpito il giovane imprenditore fino ad ucciderlo nel luglio scorso. I suoi dipendenti non lo hanno mai abbandonato, gli sono stati vicino, come lui aveva sempre fatto con loro, con chiunque ne avesse bisogno, perché di momenti difficili, in questi ultimi sei anni ce ne sono stati e per tutti. Un maestro, lo definiscono adesso, anche se giovane ci ha insegnato tanto, dicono, non scoraggiarsi mai, guardare sempre avanti, credere in quello che si fa, consigli che torneranno utili anche adesso, che Andrea non c'è più, perché quell'officina chiusa poco dopo la sua morte, ieri, è tornata a rivivere. Andrea ha deciso di donare proprio ai suoi più stretti collaboratori, l'intera proprietà di quel garage. Perché aveva fiducia in noi, perché ci ha sempre creduto, perché ci ha trattato come collaboratori più che dipendenti, quindi ci ha conosciuto e probabilmente ci ha ritenuto in grado di poter proseguire con il suo sogno, che era quello di creare l'officina e farla crescere. Questa è stata la sua ultima lezione di vita, lasciare un pezzo della propria a chi con lui l'ha condivisa e non gettare via sogni e speranze che hanno unito per sei anni il giovane imprenditore e i suoi collaboratori. Siamo alla crisi nordcoreana, monta la tensione in estremo oriente dopo il test balistico di Pyongyang. Putin a Trump, inutile inasprire le sanzioni, il rischio è una catastrofe planetaria. Ancora un allarme da Seoul, che denuncia nuovi movimenti sospetti di missili intercontinentali verso la costa. Antonio Soviero. Navi da guerra sudcoreane solcano le acque del mare orientale. Si preparano alla guerra col nord. La tensione è altissima dopo il sesto test nucleare da parte del regime di Kim Jong-un che secondo la stampa sudcoreana starebbe trasportando verso la costa occidentale un missile balistico intercontinentale. Questo signore è l'ambasciatore di Pyongyang presso la sede ONU di Ginevra e ha appena detto Gli Stati Uniti riceveranno altri pacchi regalo dal mio paese, cioè test nucleari, fino a quando faranno affidamento su imprudenti provocazioni e futili tentativi per mettere pressione sulla Corea del Nord. Continua quindi l'escalation della guerra di nervi con Donald Trump che twitta sto autorizzando Giappone e Corea del Sud ad acquistare dagli USA un quantitativo sostanzialmente maggiore di equipaggiamento militare altamente sofisticato. Ma la guerra reale è ancora lontana così come le nuove sanzioni sponsorizzate da Washington. L'uso delle sanzioni in questo caso è inutile ed inefficace, sta dicendo Vladimir Putin. E visto che la Corea del Nord ha armi atomiche un conflitto potrebbe portare a una catastrofe globale. Il presidente russo condanna comunque i test atomici e nega rapporti commerciali significativi con Pyongyang come sostenuto ieri dall'ambasciatrice USA all'ONU. Ma nonostante tutto il timore di un conflitto nucleare si diffonde con Parigi che avverte i missili nordcoreani potrebbero essere in grado di raggiungere l'Europa prima del previsto. Ieri in Uruguay l'arresto di Rocco Morabito, il super boss dell'andrangheta latitante dagli anni 90, a coordinare l'operazione dall'Italia Federico Caffiero de Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, uomo forte delle istituzioni in una terra segnata dal controllo delle cosche, in un'intervista a cuore aperto al microfono di Luigi Ferraiolo racconta l'amarezza, le difficoltà e la sua solitudine nella lotta alla malavita organizzata. Ascoltiamolo insieme. Dopo Rocco Morabito non ci sono praticamente più grandi boss dell'andrangheta in libertà. Il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero de Rao ha importato nella punta dello stivale il metodo caserta usato contro i casalesi. Un sistema, investigazione pura e lavoro unitario di magistrati e forze dell'ordine che sta funzionando anche contro l'andrangheta, tanto da doverlo chiamare adesso modello reggio. Ma ora è tempo di passare oltre. Anche la società civile deve scendere in piazza in Calabria. Le vittime di estorsione a volte denunciano e questo è un passo in avanti enorme. Se si tiene conto che l'andrangheta controlla tutto, se si tiene conto che nella città di Reggio Calabria, anche per pitturare una parete, è necessario chiamare l'impresa che è autorizzata a lavorare in quell'edificio. Qui si ha ancora paura e spesso qualcuno dice ma quando cambieranno le persone che sono qui si tornerà come si era tanti anni fa? Via via però si convince che lo Stato non ha un viso corrispondente ad un soggetto. Sono convinto che l'andrangheta verrà sconfitta e non esisterà più un'organizzazione criminale. Si sente solo allora? E' la domanda che nasce spontanea. De Rao risponde di no, le istituzioni ci sono, il prefetto, le forze dell'ordine, il questore, il vescovo Oliva che ha parlato a Polsi. Ma certo c'è la solitudine per il magistrato. E' certo che questo è un territorio nel quale non si può avere rapporti con nessuno. E' questo l'altro aspetto, direi, negativo perché quel che caratterizza l'andrangheta è la sua capacità di confusione, la sua capacità di infiltrazione, di inquinamento nei vari settori. E quindi bisogna vivere sempre da soli per dirle, io giocavo a tennis e non gioco nemmeno più a tennis perché anche quello determina entrare in un circo, avere rapporti con persone. Torniamo a parlare di gioco d'azzardo perché il 7 settembre si terrà la conferenza unificata Stato-Regioni e Denti Locali per riorganizzare la rete di vendita. In vista di questo importante appuntamento, oggi a Milano un incontro promosso dalla Caritas Ambrosiana e dalla consulta nazionale anti-usura presieduta da Monsignor Alberto Durso. Il nostro Marco Bergamaschi lo ha incontrato e sentiamo quali sono le sue proposte. Nel 2016 gli italiani hanno bruciato nel gioco di azzardo 96 miliardi di euro con pesanti ricadute sociali per le famiglie. Per contrastare gli effetti del gioco a due giorni dalla conferenza unificata Stato-Regioni e Denti Locali che riordinerà il settore, la consulta nazionale anti-usura e le associazioni che aiutano le vittime del gioco patologico hanno presentato sette proposte alle istituzioni. Si chiede la riduzione dell'offerta del consumo di gioco d'azzardo, l'eliminazione della pubblicità e la presa in carico terapeutica di chi cade nella ludopatia. C'è un'inversione di tendenza, dice il sottosegretario Baretta, che sottolinea l'impegno del governo per ridurre le slot da 400 mila a 265 mila. Ieri la pubblicazione del decreto è l'obiettivo di dimezzare in tre anni gli esercizi dove installarle. Agli enti locali aggiunge si raccomanda di non concentrare il gioco nelle periferie, alcune proposte dell'associazione, spiega, sono state accolte. Abbiamo incorporato nel documento tutto il lavoro che è stato fatto col Ministero della Salute da parte delle associazioni, che quindi è un intervento di prevenzione e di cura degli eccessi, degli effetti ludopatici. La riduzione delle slot è un primo passo, molti altri vanno ancora compiuti, commenta il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Monsignor D'Urso. La riduzione non significa eliminazione, vorremmo che si continui il dialogo, perché la sfida educativa possa essere accolta anche dal governo e nel dialogo con le altre agenzie educative, diciamo anche con l'apporto che il mondo del volontariato sta offrendo, ecco, nel dialogo si possono compiere altri passi in avanti. Con la sua presenza e le sue parole, Papa Francesco darà un forte impulso a continuare il cammino di pace e di riconciliazione tra i colombiani. Alla vigilia della visita del Pontefice in Colombia, il Presidente della Conferenza Episcopale del Paese Sudamericano, Monsignor Urbina Ortega, parla del senso di questo ventesimo viaggio apostolico di Papa Bergoglio, in cui, tra l'altro, il Pontefice parlerà a 6.000 persone che hanno avuto parenti deceduti nel sanguinoso conflitto tra governo e le Farc. L'intervista è dell'inviato Maurizio Dischino. Noi abbiamo aspettato da tanto questa visita, perché parecchi anni fa gli avevamo chiesto di poter venire, soprattutto perché due anni fa ancora stavamo in questo processo di cercare la pace. E lui ha seguito con molto interesse questo lavoro sia del governo sia della Chiesa. E allora ha un senso molto importante perché adesso stiamo cominciando il cammino verso la riconciliazione, che è un cammino che bisogna fare in un tempo lungo, con pazienza, con l'esperienza che abbiamo della guerra stessa. La guerra è diventata come una scuola di pace perché ci dice quello che non dobbiamo ripetere e poi anche con molto coraggio, come il Papa ci dice tante volte, non aver paura, avere questo coraggio di perdonare, di ricominciare. Ma cosa serve per implementare il processo di riconciliazione in Colombia? Cosa serve ancora? Io penso che da una parte c'è paura, d'altra parte c'è questo confronto ancora in cui il Paese è diviso. E poi tante persone che forse non si animano a percorrere questa via. E il Papa, io penso che con la sua presenza, la sua voce, le sue parole, ci darà un animo per rimprendere questo cammino che dobbiamo fare i colombiani. E allora, noi ci salutiamo così. Innanzitutto, grazie per averci seguito fin qui. Il TG2000 torna tra circa un'ora e mezza con l'edizione delle 20 e 30, ma subito dopo la sigla di chiusura, spazio al Festival del Cinema di Venezia con le interviste di Fabio Falzone, Javier Bardem, Jennifer Lawrence e il regista Vincenzo Marra che racconta la storia di un coraggioso sacerdote del Sud. Continuate a stare con noi.